Questo video parla di Hector Berlioz. Spiego le cose più importanti della sua vita e delle sue opere. Hector Berlioz è nato nel 1803 a Lacote Saint-André, Francia. Proveniva da una famiglia di medici, ma decise di intraprendere una carriera nella musica. Berlioz ha studiato al Conservatorio di Parigi. Nonostante alcune resistenze da parte di insegnanti e colleghi che non apprezzavano il suo approccio non convenzionale, si è laureato in composizione. Una delle sue composizioni più famose è la Sinfonia Fantastica. Quest'opera è considerata rivoluzionaria e ha gettato le basi per la musica a programma nell'epoca romantica. Berlioz era noto per la sua orchestrazione innovativa. Ha ampliato l'orchestra con nuovi strumenti creando colori sonori unici, fino ad allora sconosciuti nella storia della musica. Oltre alle Sinfonie, Berlioz ha anche scritto opere come Benvenuto Cellini e grandi lavori corali come Requiem. Queste opere si distinguono per la loro complessità e espressione drammatica. Berlioz è stato fortemente influenzato dalla letteratura, in particolare dalle opere di Shakespeare. La sua musica spesso prende in prestito temi letterari e li traduce in linguaggio musicale. Berlioz ha viaggiato molto in Europa e ha eseguito le sue opere in diversi paesi. Anche se era controverso in Francia, godeva di grande stima a livello internazionale. Berlioz morì nel 1869 a Parigi. Sebbene le sue opere fossero spesso discusse in modo controverso durante la sua vita, oggi è considerato uno dei compositori più innovativi del romanticismo. Hector Berlioz ha influenzato significativamente la storia della musica con le sue opere non convenzionali e le sue tecniche innovative. La sua musica ha aperto la porta a nuove possibilità musicali.